Grazie a tutti. In azione la seconda serie dei 100 piani uomini, dalla prima alla sesta Giovannini, Didioni, Gorla, Brogliato, Monte e Castellini. In azione la terza serie, dalla prima alla sesta Fignani, Baiano, Zucchini, Ansaloni, Drammatico, Saverino. Quarta serie in azione, dalla prima alla sesta Fribio, Nabaccino, Chiareme, Manfredini, Obicialue, Falli. Serie numero 5, dalla prima alla sesta Corsia, Bifunco, Del Monte, Caceres, Papetti, Mazzola e Ferrari. Sesta serie dei 100 piani uomini, dalla prima alla sesta Simonini, Cremonini, Orsatti, Maldessari, Del Prato, Tartaglione. Grazie. 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 Grazie.